Nella scheda 6 affrontiamo il tema della cultura e le relative opportunità di lavoro. Questo binomio lavoro e cultura ci porta ad affrontare subito il tema del grande patrimonio storico, artistico e letterario che è capillarmente diffuso in tutto il territorio nazionale. Questo patrimonio è noto, non è pienamente valorizzato e adeguatamente sfruttato sul piano economico, infatti c'è una grande forbice tra quelle che sono le potenzialità del settore e quelle che sono le reali dimensioni economiche raggiunte dallo stesso. Questo ci porta agli articoli che propongo per la scheda, il primo a titolo L'Italia da destare, si rivolge agli italiani ma anche alle istituzioni italiane che si devono dare una mossa per chiudere questo gap tra le potenzialità ancora inespresse e quelle possibili da raggiungere. All'interno di questo articolo troviamo un riferimento all'orgoglio di vivere in un paese con tanta ricchezza e un invito a mettere in campo quella che è una caratteristica tipicamente italiana, cioè la fantasia e la creatività per superare quelle che possono essere le difficoltà, soprattutto di finanziamento, degli interventi in ambito culturale. Ma c'è anche un invito alle istituzioni, sia quelle centrali che locali e anche quelle private, per il loro piccolo tipo le fondazioni, per intervenire con azioni di sistema che possano fluidificare e facilitare il sviluppo economico del settore. Il titolo del secondo articolo è La Lombardia scommette sull'arte ed è un esempio di come si possa fare sistema nel mondo della cultura. Per far questo occorre una progettualità per economizzare i finanziamenti necessari, ovvero partire da un insieme di attività già finanziate e magari con già una visibilità internazionale quale può essere l'Expo 2015 in Lombardia, per trovare un incomplesso di attività articolate e correlate tra loro, che è agevoli nelle ricadute economiche sui settori minori con minor capacità di attrazione. La Lombardia, ad esempio, sfruttando l'immagine dell'Expo 2015, ha pensato a diverse attività per incrementare gli ingressi ai musei di tutta la Lombardia, creando una convenzione. Troverete i dettagli nell'articolo, ma quali sono in concreto le possibilità di inserimento di un giovane nel mondo della cultura oggi? Vedo principalmente due possibilità. La trasmissione della cultura e la diffusione e fruizione della cultura stessa. Nel primo caso stiamo parlando dell'inserimento nel mondo della scuola come insegnante, sia a livello di scuola primaria che secondaria che universitaria. È un settore che occupa più di un milione di persone in modo abbastanza stabile e quindi il turnover necessario è chiaro che offre numerose possibilità. Tuttavia, la vera miniera da sfruttare e approfondire è, a mio avviso, quella della diffusione e della fruizione della cultura. Infatti, per fare alcuni esempi, le nuove tecnologie consentono, nell'ambito della diffusione, la realizzazione di nuovi prodotti, quali video guide per i musei, sempre più particolarizzate, e anche, in ambito museale, come fruizione di opere d'arte di vario di genere, la realizzazione di filmati 3D per le visite virtuali. In ogni caso, mi pare di poter dire che, qualunque sia la scelta, la priorità va data a individuare per tempo quello che è il proprio percorso formativo, più adatto alle proprie attitudini e aspirazioni, perché è necessario arrivare nel mondo del lavoro con una serie di competenze già sviluppate e molto concorrenziali.